Noi nelle ultime lezioni abbiamo introdotto la teoria dell'integrazione secondo Webeck rispetto a una misura mu, positiva, e abbiamo visto la terna di teoremi, il teorema di Perpolevi, l'emma di Fatou e il teorema della convergenza dominale di Webeck. Il bello di questi teoremi è che sono validi, in generale, per ogni misura. Naturalmente c'è poi da fare un discorso sulla convergenza quasi ovunque, ma questo lo faremo dopo. Allora, innanzitutto vogliamo fare un esempio sul discorso della convergenza dominale di Webeck, un esercizio. Allora, prendiamo, iniziamo a fare questo lemma, insomma esercizi preliminari se vogliamo, prendiamo questa funzione qui, x per e alla meno a nx, chiamiamola g con nx. Naturalmente gli esercizi noi per adesso possiamo farli soltanto rispetto agli integrali unidimensionali, perché quelli conosciamo, vi ho detto che comunque l'integrale di Webeck estenderà quello di Riemann, quindi se facciamo esercizi con l'integrale di Riemann unidimensionale, andiamo a studiare questa funzione. Allora, questa funzione ha un grafico di questo genere, la studiamo per x maggiore uguale a zero. In particolare ci interessa sia vedere dov'è il massimo di questa funzione, sia qual è l'integrale di questa funzione. Tutto è molto utile. Allora, per quanto riguarda il massimo, otteniamo che x è uguale a 1 su n. Questo si mette in evidenza, se x è uguale a 1 su n, qua viene meno 1, e viene zero. Quindi, e il massimo della funzione gm di 1 su n fa 1 su i per n. e qua viene e alla meno 1 su i per n. Quindi, quando n aumenta, che succede? Succede che questa funzione sia si abbassa e il grafico si sposta anche un po' verso sinistra. In qualche modo, più o meno è vero questo. Diciamo, il grafico è come se fosse, vediamo poi, spostato verso sinistra, diciamo, compresso, più che non spostato, compresso verso sinistra, e poi diviso per n. Andiamo a vedere l'integrale. L'integrale tra zero e più infinito. Questa funzione è positiva e chiaramente integrabile, in senso generalizzato, su tutto la semiretta, perché degresce all'infinito, come si dice. x per e alla meno nx, x, questo è uguale a meno x e alla meno nx fratto n. Sintericamente, spieghiamo valutato la zero e l'infinito, significa che bisogna calcolare l'infinito e il limite. Poi, più l'integrale 1 su n, integrale tra zero e l'infinito, i alla meno nx. Ho applicato la formula di integrazione per parti. Chiaramente n è un numero natural. quindi, ora, per x che tende a infinito, questo è un limite notevole che tende a zero. A zero c'è x, quindi questo vale zero, quindi questo pezzo qua non c'è. Rimane da fare quest'altro integrale, quindi qua mi viene meno e alla meno nx fratto n quadro valutato tra zero e più infinito. Chiaramente, questa funzione a più infinito tende a zero, che è esponenziale negativo e quindi rimane il valore in zero, ma e alla zero fa uno, quindi questo fa uno su n quadro. Quindi, attenzione, il fatto di aver messo questa n qui, se n è uguale a uno questo fa uno, ma se n è generico questo viene uno su n quadro. Ok? Questo è il nostro lemma. Adesso andiamo a considerare questa successione di funzioni. f n x uguale n alla alfa per x per e alla meno di x. Cioè, sono sostanzialmente la stessa successione di funzioni di prima moltiplicata per n alla alfa. Alfa è un parametro reale. Ok, quindi è chiaro che questo integrale tende a zero. Ok? è chiaro anche che la successione di funzioni tende uniformemente a zero perché se io faccio la norma infinito di g con n questo è minore o uguale di uno sui per n. Tuttavia, vi faccio notare che non potremo neanche applicare se passiamo al limite sotto il segno di integrale questa successione di funzioni tende a zero l'integrale tende a zero e ci tende anche uniformemente ma non potremmo neanche applicare il teorema che abbiamo visto in precedenza di passaggio al limite rispetto alla probabilità di un po' perché? Perché l'insieme che stiamo considerando ha lunghezza infinite infinite noi il teorema che abbiamo visto sulla convergenza unifo non l'abbiamo visto sull'intervallo ok? già così se vogliamo cercare di scrivere il risultato di passaggio al limite sotto il segno di integrale è vero ma non possiamo dimostrarlo con gli strumenti dobbiamo raffinare un pochettino gli strumenti che già abbiamo intanto andiamo a vedere se io ci metto un n alla alfa davanti qua io innanzitutto voglio fare il limite per n che tende a infinito di f con n di x limite punto a questo qua è uguale al limite per n che tende a infinito di n alla alfa per x per e alla meno mx questo qua lo voglio scrivere così come il limite per n che tende a infinito di n alla alfa per x fratto e alla meno x elevato a n fratto e alla x elevato a n chiaro? è la stessa cosa e alla nx sta al denominatore quindi è la meno nx ora il limite è su n la x si porta fuori questo è una potenza di n questo è un esponenziale in n con base maggiore di 1 se x è maggiore di 0 quindi questo limite fa 0 se invece x è 0 i valori di f con n x valgono tutti 0 quindi questo qua è 0 per ogni x diciamo appartenente a 0 quindi questa successione di funzioni converge puntualmente a 0 ma l'integrale tra 0 e più infinito di f con n di x in dx ma quanto converge? quanto vale questa integrale? questa è facile adesso da calcolare questa non è alta che n alla alfa per questa funzione di prima se poi di prima faceva 1 su n4 questo va n alla alfa meno 1 adesso quando vado a calcolare il limite è questo fa più infinito se alfa è più grande di 2 fa 0 se alfa è minore di 2 e fa 1 se alfa è uguale quindi come vedete qua abbiamo tutti i possibili risultati possiamo dire quindi f con n di x con merce a 0 che è f di x puntualmente puntualmente sull'insieme considerato l'integrale di 0 fa 0 quindi l'integrale di f con n converge all'integrale del limite in questo caso in questo caso in questo caso no in questo caso no quindi c commerge solo se alfa è minore di 2 ok ora proviamo ad applicare il teorema della convergenza di passaggio al limite sotto i segni di legare per la convergenza mi può ragioniamo su un intervallo non ragioniamo su tutta la semiretta se uso la convergenza uniforme io so ragioniamo su un intervallo 0 a io so che la norma di f n infinito è minore o uguale di quanto di 1 su e per n alla alfa meno 1 per quale motivo f con n non è altro che n alla alfa per questo quindi da questa maggiorazione troviamo questa maggiorazione e sostanzialmente questo vale sull'intervallo 0 a almeno se n è grande cioè in realtà la norma è proprio questa per quale motivo perché questi punti dove viene raggiunto il massimo della funzione 1 su n tengono a 0 quindi il massimo della funzione da un certo punto in poi viene sicuramente raggiunto per l'intervallo 0 quindi meglio di questo non posso fare questo converge a 0 se solo se alfa è minore di 1 quindi se alfa è minore di 1 e se siamo sull'intervallo 0 a cosa posso dire quindi in queste due ipotesi posso invocare questo teorema e dire che segue l'integrale da 0 ad a di f con n di x quindi di x tende a 0 per il passaggio all'imito su più segno integrale con la convergenza però vedete che ho due sconvenienze la prima è che devo ragionare sull'intervallo e la seconda che il risultato è vero anche quando alfa è compreso tra 1 e 2 quindi non acchiappo è chiaro che se alfa è maggiore o uguale di 2 il risultato è falso quindi non posso sperare di applicare nessun teorema di passaggio all'imito sotto il segno di integrale altrimenti otterrei una cosa falsa però perché qua il risultato è vero fino a 2 escluso e qua posso dimostrarlo solo fino a 1 forse perché questo teorema non è abbastanza potente chiaro? ma noi adesso ce ne abbiamo un altro abbiamo il teorema sulla convergenza dominale allora cosa dobbiamo cercare di fare? dobbiamo cercare di fare una diciamo di costruire una funzione che sia più grande di f allora come la vogliamo costruire questa funzione? continuiamo per adesso a ragionare sull'intervallo 0 a allora il lemma penso di poterlo cancellare lascio soltanto scritto questo cancello solo la parte di sotto questa riga la voglio la voglio lasciare allora vi ricordo che f con n di x era n all'alpha per x per e alla meno n di x allora io vorrei maggiorare questa funzione con una funzione di questo tipo con c per x alla meno b bene bene poi l'ho aggiusto io ok a allora andiamo a vedere dire questo significa dire che n alla alfa per x n alla alfa più bene n alla alfa scusate per x alla 1 più bene per e alla meno nx deve essere meno o uguale a 5 ok allora andiamo a fare anche qui il a derivato di questa funzione qua vediamo dove c'è il massimo e vediamo se riusciamo ad aggiustare il massimo in maniera tale che sia indipendente da n per aggiustare questo massimo mi serve il parametro p allora facciamo quindi posso fare anche per studiare dov'è il massimo questo non mi serve poi quando devo calcolare il massimo ci metto anche questo perché questa chiaramente è una costante quindi rispetto a x non altera la posizione del massimo quindi se io prendo adesso la funzione h di x uguale x alla 1 più beta real meno nx h' di x è sempre una funzione che ha un grafico similare a quello di prima viene 1 più beta per x per x alla beta per e alla meno nx meno n per x alla 1 più beta per e alla meno nx questo come lo posso scrivere? posso mettere in evidenza un x alla beta per e alla meno nx e mi rimane 1 più beta meno nx uguale a 0 quindi quindi mi viene che x è uguale a 1 più beta frattore ma allora f con n stavo di 1 più beta fratto n quanto fa? fa n alla fratto n alla 1 più beta per 1 più beta alla 1 più beta per e alla meno 1 più beta quant'è che questa quantità non dipende da n o quanto meno quando la n rimane al denominatore beta è un parametro positivo quindi a a a quando per esempio beta più 1 è uguale a se beta più 1 è uguale a alfa questo se ne va e questa è una costante la chiamiamo c a perché alla fine beta è uguale a alfa meno 1 quindi quindi otteniamo che beta è uguale ad alfa meno 1 ok a prendiamo il caso che alfa sia compreso tra 1 e 2 non ci impicciamo in caso inutile maggiore di 1 o minore di 2 dovrò probabilmente ricalcolare a parte il caso beta uguale a 0 non lo so ma questo vorrei lo fare da solo ok quello che mi interessa è che questa funzione qui la ragioniamo sull'intervallo 0 a è integrabile secondo Rima o no lo ricordate la condizione è che è integrabile secondo Rima fino a che beta non raggiunge 1 quindi questa qui già integra scriviamo adesso cancello la g non serve più quindi cancello di sopra io so che l'integrale tra 0 ed a di c per x alla meno beta in dx è finito se solo se beta è minore di 1 è chiaro? ma questa che cosa corrisponde? quindi le mie è questa diciamo è c per x alla meno beta questa è f con n di x ok? questo è il tipo di situazione che abbiamo no? abbiamo preso quella funzione abbiamo riaggiustato i coefficienti davanti alla g con n facendola diventare f con n facendola salire la se andiamo a fare f con n scusate questo è non è f con n questo è questo è f con n e questo è quello che deve venire minore dalla costanza f con n di 1 più beta fratto n non è altro che n alla alfa per 1 più beta fratto n per e alla meno 1 più beta quindi questo è f con n di x fratto x alla fratto per x alla beta per adesso vediamo un po' quando io moltiplico per x alla beta quello è 1 si 1 più beta su n alla beta quindi viene 1 più beta alla 1 più beta n alla 1 più beta su n era già il rapporto era questo per questo portato diciamo per x alla beta perché sarebbe diviso questo portato all'altra parte quindi vedete che questo se alfa è positivo ah scusate se alfa è positivo ma minore di 1 questo va a 0 se alfa è compreso diciamo è minore di 1 alfa avevamo preso positivo quindi se alfa è positivo minore di 1 converge una costante c beta se alfa è uguale a 1 e va a più infinito se alfa è maggiore di 1 quindi il caso che io sto disegnando qui è il caso in cui alfa è maggiore di 1 però è minore di 2 perché se è minore di 2 questo è minore uguale a c per x alla meno beta e questo integrare è finito in che situazione siamo? siamo esattamente nella situazione del teorema della convergenza dominata di Lebeck almeno sull'intervallo 0a per quale motivo? puntualmente abbiamo verificato che le successioni f con n convergono sempre a 0 però abbiamo questo tipo di disuguaglianza questo se funzionava se beta se alfa era uguale a 1 su beta a 1 più beta questa qua è integrabile a integrare finito quando beta è minore di 1 quindi queste successioni sono dominate tutte da una funzione L1 quando alfa è minore di 2 quindi se alfa è minore di 2 cosa posso concludere? cancello solo qui sopra se alfa è minore di 2 l'integrale tra 0 e A di n alla alfa per x per e alla meno nx in dx tende a 0 questo è dovuto questa è dovuta alla convergenza dominare di le p questo perché perché queste funzioni qua sono minore o uguali di una certa costante c con alfa per x alla meno alfa meno 1 beta è uguale a alfa meno 1 no per far funzionare le cose siccome alfa è minore di 2 questo è minore di 1 questa è la dominante tra 0 ed A sappiamo che questa funzione ha integrale finito e qui sta a posto quindi la condizione è alfa meno 1 minore di 1 che è voltile alfa meno 1 quindi quando andiamo a applicare il telema della convergenza dominata recuperiamo esattamente quei casi in cui avevamo visto che l'integrale andava a 0 possiamo fare di meglio no perché per alfa da 2 in poi l'integrale non ci va all'integrale rimane il problema uno può dire eh vabbè però tu così lo devi fare per forza 0 A ok lo devi fare per forza 0 A non è esattamente così per quale motivo noi abbiamo visto che l'integrale diciamo il massimo di della funzione di questa funzione veniva raggiunto nel punto 1 su n ok ok quindi andiamo a ragionare andiamo a ragionare allora andiamo a prendere a prendiamo per esempio x uguale maggiore o uguale di 1 su n all'alpha allora n all'alpha per x no n all'alpha per x per e alla meno nx ok io lo voglio maggiorare con una funzione che sia diciamo L1 per esempio sull'intervallo 1 più infinito cioè cosa voglio fare voglio dividere la mia retta la mia semiretta in due parti intervallo per esempio 0 1 è l'intervallo 1 più infinito applico il teorema di Lebesgue sulla convergenza dominata separatamente integrale integrale tra 0 di f con n tende a 0 integrale tra 1 e più infinito di f con n tende a 0 faccio la somma e quindi ottengo il risultato per fare questo la cosa non è difficile soltanto che per quale motivo? perché queste funzioni tendono tutte a 0 in modo esponenziale anzi più è forte n più è forte l'esponenziale quindi diciamo tutte queste sono sicuramente minore o uguali di non posso mettere n alla alfa x per e alla meno nx altrimenti l'integrale da 1 più infinito è n alla alfa ok? tuttavia vediamo un po' se e poi tra l'altro in tanti il risultato non sarebbe vero però che cosa posso dire? posso dire che se alfa è minore di 2 noi ricordate questa integrale faceva 1 su n e 4 insomma devo trovare una maggiorante tra 1 e più infinito questo lo faccio dopo comprare per non perdere tempo adesso va bene quindi per quanto riguarda questo esercizio il risultato netto è che se voglio applicare il teorema di passaggio al limite rispetto alla convergenza uniforme io c'è poco da fare posso applicarlo soltanto su un intervallo perché solo gli intervalli noi abbiamo visto solo gli intervalli e solo gli intervalli hanno misura finita quando tu approssimi uniformemente con una costante epsino se fai epsino per la misura dell'insieme se la misura dell'insieme non è finita ti viene comunque più infinita primo secondo quando andavamo applicarlo a questa successione di funzioni la cosa funzionava solo lo ripeto solo se alfa era minore di 1 ma in realtà quando si andavano a guardare gli integrali il risultato era vero quando alfa era minore di 2 se invece alfa era maggiore o uguale di 2 effettivamente il risultato non è vero allora per recuperare questi casi abbiamo fatto un ragionamento un po' più sofisticato abbiamo cercato di maggiorare tutte le funzioni con una stessa funzione questo l'abbiamo fatto su un intervallo un intervallo vicino a 0 per quale motivo adesso ho cancellato il grafico perché lì quando alfa è maggiore di 1 i massimi se ne vanno infiniti una volta che abbiamo ottenuto la maggiorazione applicando il teorema della convergenza dominata abbiamo dimostrato che tra 0 ed a quell'integrale tende a 0 per alfa minori ok diciamo che per esempio no? un modo per evitare di fare la maggiorante tra per esempio 1 e più infinito cosa possiamo osservare? possiamo osservare che questa successione di funzioni se ragioniamo sulla semiretta 1 più infinito quando n aumenta questa successione di funzioni si tende a 0 puntualmente ma tende a 0 da un certo punto in poi decrescendo all'inizio potrebbe crescere perché n alla alfa può crescere però c'è questo e alla meno nx allora prendete per esempio il punto 1 avete n alla alfa per e alla meno n da un certo punto in poi decresce e se ci mettete un x maggiore di 1 decresce ancora prima quindi quel n diciamo possiamo dire che f con n esiste un n tale che f con n è decrescente per ogni n maggiore o quale n indipendentemente da x su questo insieme ok? allora come posso e l'integrale di ciascuna di queste l'integrale di ciascuna di queste se alfa era minore di 2 l'integrale di f con n di x in dx tra 1 e più infinito è comunque finito solo se alfa è minore di 2 quindi quindi che cosa succede? succede che ti posso applicare secondo voi vediamo un po' per evitare di fare quell'esercizio mi venuto in mente che posso fare così posso applicare Beppo Levi perché Beppo Levi ci diceva Beppo Levi funzionava per le successioni crescenti insieme ma vale anche per le successioni decrescenti per le successioni crescenti di funzioni ma vale anche per le successioni decrescenti a patto che la prima funzione abbia integrale finita vi ricordate come era la misura? la misura passa lì sulle successioni decrescenti insieme a patto che la misura del primo alimento sia finita anche qua è la stessa cosa perché basta prendere per esempio come successione crescente di funzioni f con ni meno f con n quando n è maggiore o uguale di ni questa è una successione crescente di funzioni passo al limite e quello tende all'integrata di f con ni quando vado a fare la differenza viene l'integrata di f con ni meno l'integrata di f con ni che viene a zero e quindi questo qua quando n tende a infinito per Beppo Levi quindi con un minimo di difficoltà ma sono piccole difficoltà tecniche ma sostanzialmente è un risultato il teorema della convergenza dominata di Lebeck è un risultato molto 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 più flessibile ok della teorema della convergenza passaggio limite sotto di se integrare la convergenza uniforme ovviamente guardate bene che noi abbiamo parlato di teorema della misura abbiamo dimostrato dei risultati rispetto a delle misure in generale sì è vero dobbiamo ancora vedere che la misura di piano Jordan in R si estende alla misura di Lebeck in R ma le conseguenze che abbiamo trovato riguardano integrali di Riemann e successioni di integrali di Riemann quindi non è che noi vogliamo complicare le cose per diciamo dei motivi astratti no diciamo ci sono dei motivi astratti per cui se vogliamo andare a fare certi calcoli meglio dobbiamo fare certi calcoli e adesso un'altra considerazione del genere la faremo tra poco tuttavia le conseguenze cioè il teorema della convergenza dominata di Lebeck si applica ogni volta che fai un integrale per serie ogni volta che fai passi al limite sotto i segni integrali perché perché 90 volte su 100 con la convergenza uniforme non ce la fai e ci vogliono dei risultati un po' più sofisticati il miglior risultato che abbiamo a disposizione che abbiamo a disposizione è il teorema della convergenza dominata di Lebeck anzi veramente tutta la terra poi abbiamo applicato pure Beppo Lebe Beppo Lebe Fadu e Lebeck questo è quanto diciamo di elementare poi ci sono chiaramente risultati ancora più sofisticati però noi quelli non interessano perché si appliceranno magari in casi molto particolari però diciamo quanto siamo riusciti a fare in due lezioni tre lezioni chiaro ok allora facciamo una pausa così di